Il sistema informativo del Fondo Sociale Europeo è la piattaforma digitale della provincia autonoma di Trento che permette ai propri cittadini di dialogare con la pubblica amministrazione in modo rapido, semplice e sicuro, da remoto, senza alcuna necessità di recarsi negli uffici. Il sistema informativo del Fondo Sociale Europeo è semplice e intuitivo. La sua interfaccia è progettata per un comodo utilizzo da mobile e le procedure sono ottimizzate per un'esperienza utente lineare e priva di ostacoli. Grazie alla validazione con tecnologia OTP, il sistema informativo del Fondo Sociale Europeo è sicuro al 100%. Tutto ciò che occorre è uno smartphone e un comune indirizzo e-mail. Al resto, pensa la piattaforma. Digitalizzando, semplificando i processi e rendendoli accessibili da remoto, il sistema informativo del Fondo Sociale Europeo massimizza l'efficienza della pubblica amministrazione e ottimizza l'esperienza del cittadino. Nessuna attesa, nessun intoppo. Le istanze procedono spedite in modo semplice e sicuro. Il sistema informativo del Fondo Sociale Europeo permette ai cittadini di compilare ed inviare richieste per buoni di servizio, integrazione al reddito, iscrizione a corsi di formazione, formazione in apprendistato. Il sistema informativo del Fondo Sociale Europeo funziona da remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. è multidispositivo e multipiattaforma, è sicuro, flessibile e affidabile. Sistema informativo del Fondo Sociale Europeo, vicino al cittadino e alla pubblica amministrazione, ovunque essi siano.